Assessore De Masi, una rivoluzione sta coinvolgendo gli alloggi pubblici di Padova, molti sono in vendita. Sì, questo è stato un piano che è stato deliberato dal Consiglio alla fine dell'anno scorso. Quest'anno, diciamo, verso settembre abbiamo ricevuto l'autorizzazione regionale per procedere alla vendita. Abbiamo anche cominciato a contattare gli assegnatari, perché questa è una vendita riservata agli assegnatari degli alloggi pubblici, i quali potranno acquistarli a condizioni pattuite e regolate dalla delibera stessa del Consiglio Comunale. A questo riguardo poi abbiamo anche avuto dei contatti, abbiamo stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio Notarile per ottenere delle condizioni vantaggiose e abbiamo anche fatto un bando con gli istituti di credito per l'offerta, anche in quel caso, di condizioni vantaggiose per gli acquerenti. Questo piano avrà la durata di cinque anni. Abbiamo già cominciato a contattare i primi assegnatari che hanno manifestato direttamente interesse. Dopo procederemo nell'ordine alfabetico delle strade, degli alloggi, però coloro i quali sono interessati ad una sollecito acquisto sono invitati a contattarci in maniera che noi possiamo poi procedere con le stime e quindi con le offerte concrete per la vendita. Da una parte c'è l'accessione degli alloggi, dall'altra c'è la realizzazione di alloggi nuovi con i piani PEP, quindi con un'edilizia anche agevolata. Sì, certamente. Beh, innanzitutto quanto verrà ricavato dagli alloggi verrà reinvestito nell'edilizia residenziale pubblica. A fianco a questa attività poi ci sono delle attività connesse con i piani di edilizia economico-popolari per i quali, in particolare per quello di Altichiero, che è uno dei piani che è in lavorazione in qualche modo, è stata completata, quasi completata, l'acquisizione delle aree e quindi a questo punto si potrà procedere con la stipula con gli attuatori del PEP, i quali potranno poi cominciare i lavori, cosa che è prevista nel 2011. I due PEP, come dicevo, uno è quello di Altichiero, per i quali sono praticamente conclusa l'acquisizione delle aree, e poi c'è il PEP di Via Sette Martiri, per il quale, essendo tutta l'area di proprietà di un unico ente, la partenza e la realizzazione sperabilmente potrà essere altrettanto rapida. Degli effetti, più che doppi rispetto alle altre città del Veneto, l'ha avuto anche il piano casa, nonostante la crisi. Sì, nonostante la crisi, anche il piano casa qui a Padova ha avuto un notevole successo. A dicembre sono circa 350 le richieste di intervento nell'ambito di quella normativa. Questa è una cosa che ci fa piacere, il numero è consistente, ma non è eccessivo. Una delle preoccupazioni anche della cittadinanza e dell'amministrazione di conseguenza era quello che ci potesse essere un eccessivo ricorso a questo strumento, con pericolo naturalmente per la qualità edilizia della città. Questo invece non è avvenuto, si è riusciti a conservare una qualità edilizia controllata e contemporaneamente però si è riuscito a dar il via ad una operazione che avrà, penso, offrirà dei vantaggi per coloro i quali hanno bisogno di piccoli ampliamenti dei loro alloggi. Abbiamo parlato di quelli che la casa la acquistano dal comune, di quelli che la casa la realizzano attraverso il piano casa. Ci sono anche molti cittadini che sono in difficoltà con gli affitti, il comune non si dimentica di questi. No, il comune non si dimentica di questi, questo è un intervento estremamente importante perché offre fra l'altro la possibilità a molti inquilini anche di alloggi privati di rimanere nelle proprie case e questa è una cosa direi sulla quale l'amministrazione è particolarmente sensibile in quanto spesso si tratta anche di inquilini di una certa età che difficilmente possono essere spostati magari in un alloggio pubblico. Quindi c'è questo intervento che mira a lasciare le persone nell'alloggio nel quale spesso hanno vissuto tutta la vita e naturalmente cercando di offrire dei contributi per gli affitti o nel caso in cui questi inquilini a causa di difficoltà economiche siano incappati in fenomeni di morosità nell'aiutare a sanare queste morosità attraverso degli accordi con i proprietari, attraverso la rinegoziazione dei contratti alla luce dei cosiddetti contratti a canone concordato e quindi questo è un intervento che va non solo a vantaggio degli inquilini ma anche dei proprietari stessi che si vedono riconosciute delle morosità e vengono aiutati a concordare fitti più adatti anche al momento attuale di crisi. Quindi l'obiettivo è quello di non lasciare nessuno sotto i punti o per la strada? Assolutamente no. Lo scopo delle politiche abitative è quello di contrastare il fenomeno del disagio abitativo e naturalmente il massimo del disagio abitativo è proprio quello che si ha quando si è sloggiati dalla propria casa e quindi è nostra ferma intenzione, lo è sempre stata, quella di evitare che qualcuno sia costretto ad abbandonare la casa e a non averne una disponibile.